Benvenuti su News per te. Dopo quattro mesi e mezzo dalla misteriosa scomparsa di Cataleya Alvarez, conosciuta affettuosamente come Cata, è arrivata una rivelazione scioccante. Prima di continuare iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. È inevitabile domandarsi chi potesse desiderare il male di questa bambina. Nonostante gli sforzi per indagare sulla sua sparizione nell'ex hotel Astor, occupato illegalmente dalla sua famiglia, le ricerche non hanno portato a risultati soddisfacenti. Tuttavia, dopo mesi di silenzio, l'amichetta di Cata ha rivelato dettagli scioccanti. Una bambina di nome Mia, di soli tre anni, ha dichiarato di essere stata l'ultima a vedere Cata il fatidico 10 giugno, quando è stata trascinata via da un uomo verso una struttura adiacente all'hotel occupato. Nonostante questa testimonianza, la situazione rimane complessa. Non ci sono registrazioni delle telecamere di sicurezza che possano confermare l'identità del rapitore o la sua via di fuga. Anche un'unità speciale dei carabinieri non ha trovato tracce della presenza di Cata nell'hotel Astor. Le parole di Mia rafforzano l'ipotesi di un rapimento a scopo di estorsione, ma nonostante il tempo trascorso, nessuna richiesta di riscatto è stata fatta. Inoltre, c'è un'altra teoria che suggerisce che Cata possa essere stata portata via in cambio di un'altra bambina, figlia dell'ex compagna di uno spacciatore. Le indagini si concentrano su vari sospetti, tra cui lo zio materno e quello paterno, due cugine peruviane e un cittadino romeno che occupavano l'hotel e sono stati arrestati il giorno della scomparsa con bagagli sospetti. Sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione, in un contesto di rivalità tra diverse fazioni, una romena e una peruviana, legate agli affitti illegali. I pubblici ministeri stanno cercando di ottenere ulteriori informazioni interrogando 14 persone, tra cui un fratello del padre e il nonno della bambina, i quali avevano dichiarato che Cata si trovasse in Perù e che avrebbero sistemato le cose tramite una telefonata proveniente dal penitenziario di Lima. La storia di Cata rimane un enigma, mentre la speranza di ritrovarla è sempre presente. E voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video.